Rispetto alle previsioni direi che è andata piuttosto bene, tant'è vero che viene confermata alla mezzanotte rispetto alle 10 della previsione iniziale. Il problema è che, come secondo il solito in Italia, è una cosa abbastanza fumosa per quanto riguarda, per esempio, le capienze e come calcolare le capienze dei locali. Quindi chiediamo più chiarezza su questo e chiediamo ancora più fiducia nei locali e nei gestori dei locali che probabilmente si meritano questo ed altro.